Un bambino in macchina col padre vede alcune prostitute sul viale, allora chiede al padre Chi sono quelle signore? Il padre imbarazzato Niente, niente, guarda dall'altra parte che bel negozio di giocattoli Il bimbo Sì, sì, l'ho visto! Ma chi sono quelle signore? Il padre Sono, sono delle venditrici ambulanti Il figlio Ah, e cosa vendono? Il padre Vendono, vendono un po' di felicità Il bambino inizia a riflettere sulla cosa e il giorno dopo apre il suo salvadanaio prelevando 50 euro con l'intenzione di andarsi a comprare un po' di felicità da quelle signore Così quel pomeriggio si presenta da una delle prostitute e le chiede Signora, mi darebbe 50 euro di felicità, per favore? La donna resta allibita, ma visto il periodo di crisi decide che non è il caso di lasciarsi sfuggire 50 euro Così porta il bimbo a casa sua e gli prepara tre enormi fette di pane con la nutella La sera il bimbo torna a casa e trova i genitori visibilmente preoccupati Il padre gli chiede Dove sei stato finora? Eravamo in pensiero E il bimbo guardando il padre Sono stato da una delle signore che abbiamo visto ieri a comprare un po' di felicità Il padre sbianca e gli chiede E allora, com'è andata? Il bimbo Beh, le prime due ce l'ho fatta La terza però l'ho leccata e basta Se ti vai iscriviti!